La sera della focara, a Brindisi il tradizionale rito legato alla festa di Sant'Antonio si è svolto al quartiere Sant'Elia presso la chiesa di San Lorenzo d'Abrindisi, come buon auspicio per il nuovo anno a bruciare le potature invernali segno di speranza per l'agricoltura futura. Prima dell'accensione della popolare focara la benedizione degli animali che richiama sempre una numerosa partecipazione di famiglie, bambini e dei loro animali domestici e non solo. E' bellissimo come il quartiere di periferia, lo definisco un quartiere popolare, ma popolare per la bontà della gente la gente ha bisogno di cose semplici e queste feste credo che diano anche valore alla semplicità delle famiglie al fatto dello stare insieme, vedere tante persone attorno al fuoco crea veramente la gioia ritrovarsi con i bambini attorno alla musica nel giro delle bancarelle e poi vedere tante persone portare gli animali domestici pensare al fuoco vorrei lanciare proprio questo segno di speranza per tanti giovani, tante famiglie che cercano lavoro che si riaccenda la speranza nel cuore di tanti nostri uomini e donne delle nostre famiglie, della nostra città.